Ok, ce l'abbiamo fatta. Lo streaming è partito, siamo in pubblico. Bene, quindi possiamo iniziare questa sessione di laurea. Il primo candidato è Bardini Federico, a cui adesso, appena lo trovo, do la parola. Dov'è? Non vedo Bardini. Eccoci, eccoci. A questo punto hai la parola e puoi presentare. Ok. Buongiorno, sono Federico Bardini. Nel mio lavoro di tesi mi sono occupato di realizzare un piano prova per prove environmental stress screening e di fare una caratterizzazione in termini di efficienza su una serie di dispositivi. Le environmental stress screening sono delle procedure di setacciatura in cui vengono applicate delle sollecitazioni di tipo ambientale a dispositivi o componenti elettronici con lo scopo di far precipitare i difetti latenti in difetti manifesti. Le prove più utilizzate sono le prove di vibrazione e quelle termiche perché, se eseguite in successione, permettono di far precipitare circa il 100% dei difetti latenti, ovvero difetti che non sono individuabili attraverso un'ispezione visiva, come per esempio fili parzialmente staccati o saldature maleseguite, e che porteranno il dispositivo al guasto dopo poche ore di vita. Queste prove sono eseguite su tutta la popolazione dei prodotti finiti, che possiamo dividere in popolazione debole e popolazione forte. Attraverso le SS si cerca di individuare la popolazione debole. Con queste prove non si incrementa l'affidabilità del singolo dispositivo, ma si incrementa l'affidabilità dell'intera popolazione, in quanto vengono eliminati quei dispositivi difettosi che si guastano dopo poche ore di vita e che contribuiscono a generare un tasso di guasto inizialmente elevato. Quella che veniamo in basso è la curva vasca, ed è un grafico universalmente riconosciuto e accettato per descrivere il tasso di guasto dei dispositivi. È diviso in tre zone, zona della mortalità infantile, zona della vita utile e zona dell'invecchiamento. Noi vogliamo diminuire il tasso di guasto nella zona della mortalità infantile. Infatti, come possiamo vedere, il tasso di guasto della popolazione in cui è stata eseguita la setacciatura risulta essere nettamente inferiore del tasso di guasto della popolazione in cui non è stata eseguita tale setacciatura. Il dispositivo da noi testato è un convertitore di CDC che era già stato progettato in laboratorio e mi sono occupato di realizzarlo e caratterizzarlo con delle procedure test. Questo dispositivo verrà poi inserito all'interno di una rete di sensori nell'ambito dell'agricoltura 4.0, quindi si troverà all'esterno e sarà soggetto ad agenti atmosferici, variazioni di temperatura, vento e presenza di animali. Quindi l'esecuzione su di esso di prove termiche e di vibrazione è ideale per simulare le condizioni che incontrerà sul campo. Di questi dispositivi ne abbiamo realizzati otto per poter rendere la prova più significativa possibile. Poiché dovevamo fare un'analisi di ripple e di risposta al gradino, le abbiamo alimentati attraverso una rete di alimentazione che abbiamo fissato su una piastra in alluminio. Inoltre in questa piastra vi abbiamo fissato anche le schede per agevolarne il trasporto, per dissipare il calore, per realizzare un cable management e per fissarle in maniera corretta sul banco vibrante per eseguire le prove di vibrazione. Una volta che le schede sono state realizzate e assemblate, sono stati eseguiti il test funzionale, il ciclo termico, lo step termico, le vibrazioni random e le vibrazioni sinusodali. Vediamole nel dettaglio. La prima prova che abbiamo eseguito è il ciclo termico, nelle quali le schede sono state inserite all'interno di una camera climatica, la temperatura fatta scendere fino a meno 20 gradi e la temperatura è stata mantenuta costante per un'ora. Dopodiché la temperatura è stata incrementata fino a 80 gradi e mantenuta costante per un'altra ora. Questo processo è stato eseguito per due cicli. I limiti di temperatura invece a meno 20 e 80 sono stati scelti studiando i datasheet dei componenti in modo tale che le prove rimanessero all'interno dei limiti operativi dei componenti e tenendo conto delle temperature che il dispositivo incontrerà sul campo. La seconda prova che abbiamo eseguito è lo step termico, nelle quali le schede sono ancora una volta state inserite all'interno di una camera climatica, la temperatura fatta scendere fino a meno 20 gradi e è mantenuta costante per 10 minuti. Dopodiché è iniziata la fase di salita, dove ogni 5 gradi la temperatura è stata mantenuta costante fino a 10 minuti fino a 80 gradi, dove è poi iniziata la fase di discesa. La terza prova che abbiamo eseguito sono le vibrazioni random, nelle quali le schede sono state fissate su un banco vibrante, il quale ha applicato delle solicitazioni anche simultanee a frequenze comprese tra i 5 e i 1000 Hz. Come possiamo vedere da profilo, 5 Hz corrisponde a una solicitazione nulla, questa solicitazione poi è stata incrementata con una pendenza di 3 dB per ottava fino a 30 Hz, fino a 200 è rimasto costante e per poi decrescere ancora una volta con una pendenza di 3 dB per ottava fino a 1000 Hz. Non esistono standard internazionali per prove di vibrazione su dispositivi utilizzati in ambito agricoltura 4.0. Quindi quello che abbiamo fatto è stato adattare profili già esistenti, seguendo le norme internazionali e immaginando le solicitazioni che può subire un dispositivo all'esterno in un campo. L'ultima prova che abbiamo eseguito sono le vibrazioni sinusoidali, nella quale si parte da una frequenza di 5 Hz che corrisponde a una solicitazione nulla, si fa una spazzolata in avanti in frequenza con il passo di un ottava al minuto fino a 1000 Hz per poi tornare indietro. Ovviamente le prove di vibrazione vengono eseguite ogni volta per ciascun asse. Questo è il setup che abbiamo realizzato per il test funzionale, ma che poi sarà pressoché identico a quello utilizzato per le successive prove. Ovviamente per le prove termiche ci sarà una camera climatica e un data logger con delle termocopie per monitorare la temperatura, mentre invece per le prove di vibrazione ci sarà il banco vibrante e dei accelerometri per monitorare l'accelerazione. Quindi abbiamo le schede da testare, un alimentatore a due canali, un PC per acquisire dati provenienti dai microcontrollori delle schede inerenti a potenza, tensione e corrente, se d'ingresso che d'uscita, un oscilloscopio per l'analisi di ripple e di risposta al gradino, due multimetri per misurare la tensione e la corrente, se d'ingresso che d'uscita, e un altro PC per acquisire dati provenienti dal microcontrollore e dall'oscilloscopio. Prima di eseguire le prove è stato eseguito un test funzionale per verificare il corretto funzionamento delle schede. Questo test è stato eseguito in laboratorio senza applicare sollecitazioni e della durata di circa 10 minuti. Durante questa prova, tre schede si sono guastate a causa di un falso contatto sul morsetto. Una volta riparate, una di esse ha continuato a non funzionare a causa di una resistenza che si è bruciata per una saldatura male eseguita. Appurato che le schede fossero funzionanti, è stato eseguito il ciclo termico, nelle quali le schede hanno manifestato tutte, quasi tutte, lo stesso comportamento, ovvero un incremento dell'efficienza al diminuire della temperatura e viceversa. Tuttavia si parla di una variazione d'efficienza di circa un punto percentuale, quindi troppo poco per poter dire che le schede fossero guaste o che avessero un comportamento anomalo. Il discorso diverso va fatto per la scheda 7, come possiamo vedere dalla figura, abbiamo un funzionamento intermittente fino a quando la scheda non si è guastata completamente. Il guasto invece era dovuto a un filo che connette il carico alla scheda che si era sfilato dal morsetto. Il ripple è un parametro che solitamente viene studiato per valutare la bontà di un convertitore di Cdc. Quello che abbiamo fatto noi è valutare come variava durante la prova. Quindi abbiamo definito il range, la differenza tra valore massimo e valore minimo, se l'ingresso è in uscita. Per quanto riguarda l'andamento del range in ingresso, possiamo vedere una variabilità all'interno di un intervallo di 10 millivolt con dei picchi ad 80 gradi. Per quanto riguarda il range d'uscita, invece, dobbiamo dire innanzitutto che ha un'ampiezza di circa 60-70 millivolt inferiore rispetto all'ampiezza del range in ingresso e mostra una variabilità all'interno di un intervallo di 7 millivolt. Tuttavia, queste variazioni, ancora una volta, risultano essere troppo piccole per poter dire che le schede fossero guaste o che avessero un comportamento anomalo. In accordo col piano prova è stato eseguito lo step termico, nelle quali le schede hanno mostrato un comportamento simile a quello già visto per il ciclo termico, ovvero una diminuzione dell'efficienza all'aumentare della temperatura. Tuttavia, questa diminuzione dell'efficienza è di circa un punto percentuale, quindi troppo poco per poter dire che le schede fossero guaste o che avessero un comportamento anomalo. Inoltre, durante questa prova non si sono avuti guasti. Ancora una volta, l'ampiezza del range in uscita risulta essere di circa 60-70 millivolt inferiore rispetto all'ampiezza del range in ingresso, il quale mostra una variabilità all'interno di un intervallo di 12 millivolt con una crescita ad alta temperatura. Per quanto riguarda il range in uscita, mostra una variabilità all'interno di un intervallo di 4 millivolt, quindi ancora una volta queste variazioni risultano essere troppo piccole per considerare le schede guaste o dire che abbiano un comportamento anomalo. Questa è la schermata che abbiamo acquisito per lo studio della risposta al gradino. Durante tutte e due le prove termiche non abbiamo avuto variazioni significative né di picco massimo in ingresso e in uscita e nemmeno del delay. Quindi possiamo concludere che le schede hanno una risposta al gradino costante al variare della temperatura e delle performance indipendenti da essa. L'ultime prove che sono state eseguite sono i test di vibrazione che sono state eseguite in successione per ciascun asse. Durante queste prove le schede hanno manifestato una variazione d'efficienza di circa due punti percentuali. Tuttavia, una volta interrotte le sollecitazioni, le schede hanno riflesso a funzionare correttamente, segno che non si sono innescati meccanismi di guasto. Durante la prova, tuttavia, si sono guastate tre schede. Una a causa di un filo che connette il carico alla scheda che si era sfilato dal morsetto. Un'altra a causa del cavo USB che si era sfilato dal microcontrollore interrompendo il flusso dei dati dal microcontrollore al PC. Un'altra a causa di un frammento di saldatura che si era staccato ha creato un cortocircuito, il microcontrollore è andato in protezione e ha interrotto di conseguenza il funzionamento della scheda. Per motivi di sicurezza non c'era possibile stare in prossimità del banco vibrante quando questo era un funzione. Quindi quello che abbiamo potuto fare è stata una rilevazione delle performance prima e dopo il test per verificare che i dati fossero uniformi e che non si fossero innescati i meccanismi di guasto. Per quanto riguarda il ripple, la variazione maggiore l'abbiamo nel range in uscita. Tuttavia si parla di variazione dell'ordine dei millivolt che a fronte dei 9 volt di uscita lo possiamo considerare trascurabile. Per quanto riguarda invece la risposta al gradino, la variazione maggiore l'abbiamo nella percentuale di incremento d'uscita e in particolar modo nell'after test lungo l'asse Z. Tuttavia si parla di circa 3-4 punti percentuali in più rispetto agli altri. I dati prima e dopo il test risultano essere conformi, quindi non si sono innescati meccanismi di guasto. Questo è un esempio di piano vibrante in funzione durante una prova di vibrazione lungo l'asse Z. In questa tabella ho indicato in quale prova si sono verificati i guasti e per quale scheda. In conclusione, in questa tesi è stato realizzato un piano prova per prove di tipo SS. Sono stati realizzati 8 convertitori di CDCDBAC, sono stati eseguiti due test termici e due test di vibrazione. Alla luce dei risultati raccolti non si sono verificate variazioni significative d'efficienza quando le schede sono sottoposte a sollecitazioni. Quindi possiamo concludere che le schede possono essere impiegate tranquillamente all'esterno. Tuttavia ci sono state delle criticità legate ai morsetti, quindi una possibile soluzione potrebbe essere quella di sostituire i morsetti con delle saldature. Inoltre, potrebbero essere introdotte delle nuove prove, come per esempio le prove d'urto, per simulare la presenza di animali qualora i dispositivi venissero utilizzati all'esterno. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie. Ci sono domande? Io avrei alcune domande molto brevi. Ora, mi scuso, io sono meccanico, quindi magari aspetto per voi sono domande abbastanza scontate. Per quanto riguarda il convertitore, qual è la topologia del convertitore che oggetto di prova? Cioè, si dice 11cdc, ma qual è? Poi l'altra domanda era riguardo alle prove termiche. I convertitori sono sotto carico durante le prove termiche e se esiste una qualche correlazione tra termica o carico che viene dato. E infine, la terza era siccome voi montate tutti i vostri azionamenti da provare su una piastra e la piastra viene mossa centralmente da un attuatore, se c'è un monitoraggio dell'eventuale eccitazione di modi della piastra e quindi se esistono differenze tra le accelerazioni qui è sottoposto il diverso azionamento in funzione della posizione sulla piastra. Ecco, scusami, sono tre domande un po' così. Allora, per quanto riguarda il dcdc io non mi sono occupato della fase di design, io mi sono occupato solamente di realizzarlo fisicamente, quindi comporlo e realizzare un pianoprova su di esso. quello è l'unica cosa che ho fatto io su questo convertitore. Per quanto riguarda la seconda domanda che però in questo momento non me la ricordo. Lo abbiamo perso. Pronto? No, scusate, la domanda era semplicemente che tipo di convertitore era? Un buck? Un buck? Un buck? un buck. Grazie. Per ora le altre domande non me le ricordo ora in questo momento se me le puoi rifare scusi abbiamo fatto la seconda era se il convertitore era quando era sottocarico sia stato provato durante la termica sottocarico e se questo carico aveva un'attinenza al profilo di utilizzo previsto? Sì, abbiamo simulato il fatto che questo dispositivo vada in un campo si interpone tra un pannello fotovoltaico e delle batterie da caricare quindi abbiamo simulato l'ingresso come un pannello fotovoltaico e in uscita il carico come se fossero delle pile durante le prove termiche e anche le prove di vibrazione era alimentato. Ah sì, la terza domanda era se la struttura aveva verificato fosse sufficientemente rigida per verificare l'ipotesi che tutti gli elementi sui dare alla piastra fossero sollecitati con la medesimo spettro di accelerazione. Sì, abbiamo utilizzato degli accelerometri per monitorarli abbiamo monitorato sia il banco che le schede per vedere se avessero la stessa sollecitazione. Inoltre le schede sono state messe anche nella stessa direzione proprio per avere una coerenza con le direzioni di vibrazione sulle varie parti della scheda. Ok, grazie. Bene. C'è qualche altra domanda? Giusto una domanda? Se magari la faccio io proprio breve che è questa. Parlavi di Ripple in ingresso e di Ripple in uscita cioè però non capisco bene che cosa c'è il fatto che i test cambiano il Ripple in ingresso lo posso capire ma perché cambiano anche quello in ingresso? Cioè in uscita lo posso capire ma perché cambia anche quello in ingresso? Eh, questo è dovuto sono le sollecitazioni che hanno variato dei parametri della scheda della scheda e che quindi tutto ciò si è riassunto in una variazione di Ripple eccetera. Perché cioè l'ingresso cioè il segnale di ingresso io lo dai te indipendentemente cioè da un alimentatore immagino da qualcosa che non sta nella cioè che non è sollecitato oppure sì? No, l'alimentatore non è sollecitato è fuori dall'alimentazione è fuori dal banco vibrante o dal o dalla camera primaria. Sì, per questo mi stupisco un po' che ci sia una variazione del Ripple in ingresso però vabbè se l'hai misurato vuol dire che c'è va bene ok, grazie passiamo a Cassini Gabriele dov'è? Sì non ti ecco di qua no, ho sbagliato sono andati a Francesco Goetti dove è? Dov'è Cassini? C'è non ti vedo non ti vedo ecco di qui perché abbiamo un attimo ok ok Cassini Gabriele pianificazioni in tempo reale del moto di un robot per l'esplorazione di ambienti sconosciuti sì un titolo piuttosto drammatico sentiamo buongiorno a tutti mi chiamo Gabriele Casini e oggi descriverò un algoritmo per la pianificazione in tempo reale del moto di un robot il quale ha come obiettivo l'esplorazione di ambienti sconosciuti consideriamo un robot planare posizionato in un ambiente di cui non ha nessuna informazione l'obiettivo della mia tesi è stato pianificare in tempo reale una traiettoria in modo tale che esso potesse esplorare attivamente lo spazio circostante facendo rimanere limitati gli errori di stima dei punti caratteristici della mappa e l'errore di localizzazione per raggiungere tale obiettivo è necessario offrire un compromesso tra i compiti principali che il robot deve eseguire i quali riguardano principalmente l'esplorazione di ambienti e il raffinamento di sezioni di mappa già viste il contesto di base dunque rimane quello della SLAM il problema della simultaneous localization e mapping consiste nel posizionare un veicolo autonomo dotato di un'opportuna sensoristica all'interno di un ambiente sconosciuto e fare in modo che esso riesca a costruire una mappa incrementale dello spazio circostante stimando simultaneamente la propria localizzazione la costruzione di una mappa è una funzione di notevole importanza per tutti i veicoli mobili in quanto permette di fornisce supporto ad altri tipi di task come ad esempio il path planning o la visualizzazione grafica dell'ambiente da parte di un operatore allo stesso modo il tracciamento della localizzazione fornisce supporto in assenza di sistemi globali di tipo GPS o in presenza di zone dove non è garantito una loro efficienza elevata efficienza il problema dunque risulta di fondamentale importanza in tutti i domini della robotica consideriamo un robot che si muove nello spazio acquisendo osservazioni di alcuni punti caratteristici della mappa ad un determinato istante temporale è possibile definire il vettore descrittore della posa il vettore di controllo il vettore posizione dell'iesimo landmark e infine l'osservazione data dalla sensoristica definendo i vettori d'insieme è possibile definire quella che è la densità di probabilità obiettivo della SLAM L rappresenta la libreria di features o landmark caratterizzanti la mappa la tale densità sarà caratterizzata dunque da un modello di moto e un modello di osservazione tipici del robot e del sensore un passo di predizione e un passo di correzione caratteristici dell'algoritmo con tali elementi è possibile dunque propagare la densità di probabilità congiunta della traiettoria e della mappa fornite le misurazioni gli ingressi di controllo e la stima iniziale al fine di propagare tale densità è necessario porre attenzione su un fatto l'errore di stima tra la posizione stimata di un landmark e la posizione reale è in gran parte comune a tutti i punti notevoli della mappa ciò porta comunque a una correlazione tra i vari errori di stima e dunque la generazione di un grafo di correlazioni i cui archi rappresentano l'incertezza relativa tra due landmark la variazione di uno di questi archi porta un effetto di propagazione all'indietro nell'aggiornamento delle stime le tecniche che fanno uso di tale struttura sono l'EKF SLAM la quale utilizza una logica di tipo Extended Kalman Filter per la propagazione e la Fast SLAM la quale è caratterizzata da uno stato raw blackwellized il quale permette di decomporre la densità di probabilità obiettivo in una densità legata alla mappa e una densità legata alla posa del veicolo è necessario notare che tali strutture ipotizzano che la relazione tra misura e landmark sia nota in realtà tale setup non è noto in più sono presenti Missed Detection e Clutter ovvero false misure quindi al fine di modellizzare la mappa e le misure è necessario introdurre il concetto di insieme RFS consideriamo l'insieme di misura esso assume una duplice natura la dimensione di ogni elemento è finita mentre la dimensione dell'insieme totale è aleatoria la dimensione di ogni singolo elemento è dipendente dai parametri caratteristici del sensore mentre la dimensione del vettore dell'insieme totale è comunque caratterizzata dal setup realistico ciò porta alla definizione di un insieme RFS per la mappa e per le misure ognuno di questi insiemi è caratterizzato da una funzione di densità multioggetto la quale è modellabile attraverso un processo di Poisson il quale è caratterizzato da una funzione PHD o funzione di intensità la quale rappresenta a livello di mappa la distribuzione attesa degli elementi nello spazio e dunque i picchi rappresentano le locazioni più probabili dove trovare i landmark tale procedura tale PHD è alla base dell'algoritmo PHD SLAM il quale considera un framework di tipo raw black and lies particle filter in cui la PDF marginale della traiettoria è espressa attraverso un insieme di ipotesi di traiettoria per ogni ipotesi mantenuta dal particle filter è possibile identificare una particella il quale ha all'interno un peso rappresentante la verosimiglianza dell'ipotesi associata l'ipotesi di traiettoria associata e infine la mappa associata di ipotesi caratterizzata dalla PHD l'algoritmo dunque campiona una nuova ipotesi dell'attuale posa del veicolo propaga la PHD attraverso opportuni passi di predizione e correzione per poi eseguire il reweighting della particella a questo punto di allestrazione della traiettoria e della mappa attraverso opportuni criteri expected a posteriori o massimum a posteriori per poi eseguire il ricampionamento delle particelle tale procedura di PHD SLAM può essere utilizzata in un contesto di SLAM attiva tale declinazione della SLAM tradizionale permette di pianificare attivamente la traiettoria in modo tale da conoscere incrementalmente la mappa stimando simultaneamente la localizzazione il problema dunque risulta nel cercare il punto di arrivo minimizzante una metrica di entropia sulla posa e sui landmark fornite l'eodometria e le misurazioni attraverso vari solver è possibile dunque definire quelli che sono i valori risultanti i quali costituiranno il momento medio della distribuzione normale della distribuzione normale obiettivo è necessario dunque modellizzare il termine di entropia chiamato anche guadagno di informazione sulla base di alcuni compiti per ognuno è necessario per tutti questi compiti è necessario dunque offrire un compromesso il robot deve essere in grado di soddisfare un requisito di exploration cioè deve essere in grado di esplorare continuamente aree nuove exploitation deve raffinare sezioni di mappa già visitate e mantenere un'accuratezza della localizzazione nei processi precedenti la matrice di entropia la metrica di entropia dunque sarà caratterizzata da un termine di guadagno di informazione sulla mappa già esplorata il quale può essere modellizzato attraverso vari termini di incertezza legati ai landmark e alla posa del veicolo e un guadagno su una mappa eventualmente esplorata per il quale è necessaria un'attenta modellazione considerando un robot in una particolare posizione dello spazio è possibile definire attorno ad esso un set di possibili destinazioni per ognuno dei quali varierà il termine di entropia legato all'area eventualmente esplorata a questo punto è necessario definire la matrice di esplorazione binaria la quale deve essere introdotta nella particella e propagata assieme ad essa la variazione dei parametri associati dei valori associati alla matrice di esplorazione comporta dunque una visione diversa dell'area esplorata e della nuova area un valore di uno indica che la casella è esplorata un valore di zero indica che la casella non è esplorata il numero di elementi diversi tra la matrice di esplorazione legata all'area esplorata e la matrice di esplorazione legata alla nuova area fornisce un termine il quale può essere utilizzato nella modellazione dell'entropia completa l'algoritmo ph di slam attivo dunque sarà costituito da un ciclo leale i quali contraddistingue comunque le reali operazioni che il robot effettivamente esegue è un ciclo appicinizio che descrive le operazioni che il robot esegue solo a livello simulativo al fine di fornire il punto a massimo guadagno di informazione nuovamente al ciclo leale il modello di riferimento per il veicolo è di tipo uniciclo al quale è stato introdotto parametri di rumore di processo il controllo è eseguito attraverso un pool pool suite controller il quale permette di inseguire una traiettoria definita tramite punti generando continuamente comandi di velocità tali comandi dipendono da una legge di controllo di curvatura la quale dipende da una distanza look ahead che definisce comunque il livello di accuratezza varia oscillazione nell'inseguimento del percorso il sensore è modellizzato attraverso parametri di distanza angolo per modellizzare la realtà di tale sensore ogni landmark è rilevato con una certa probability of detection PD e ad ogni misura è associata una certa probabilità casuale se la probabilità associata alla misura è inferiore rispetto alla probability of detection allora la misurazione viene inserita nel vettore di misura totale al quale è aggiunto comunque un rumore parametri di rumore di misura la procedura fittizia inoltre è definita attraverso una procedura di ricerca dei vicini la quale identifica comunque i valori del robot nel quale i valori di posizione del robot nel quale è possibile che lui si recchi quindi utilizzando una tecnica simile alla PRM è possibile campionare nel piano una serie finita di punti casuali con coordinate aleatorie ognuno di questi punti definisce un vicino rispetto alla posizione stimata del robot se è interno ad una circonferenza di raggio ray circle al cui centro vi è la posa stimata del robot l'entropia totale dunque sarà caratterizzata da un termine tenente conto dell'esplorazione di tale possibili destinazioni aumentando dunque il numero di caselle esplorate diminuisce il valore di entropia e dunque aumenta il guadagno di informazione la procedura di ph di slam attiva è a sua volta ampliata attraverso una seconda di fase di ricerca dei vicini ciò al fine di fornire un punto a massimo guadagno di informazione più accurato il risultato dunque sarà un albero di entropie i cui nodi rappresentano i guadagni di informazioni legati ai vari percorsi ogni sottoalbero caratterizza quella che è un'entropia accumulativa la minore tra di esse permette di definire il punto a massimo guadagno di informazione lo scenario simulativo è quello presente in figura è presente un robot con pov semicircolare il quale si muove all'interno di un ambiente definito tramite punti di natura statica il parametro weight area visto precedentemente deve essere variato per offrire un compromesso tra i benefici di exploration e exploitation un valore di tale parametro relativamente basso pari a 50 non permette al robot di esplorare nuove aree privilegiando compiti di exploitation e accuratezza un valore del parametro relativamente alto pari a 500 garantisce al robot di soddisfare il requisito di exploration cioè a discapito di requisiti di exploitation e anche accuratezza la stima della mappa permette anche di evidenziare tale affermazione un valore del parametro relativamente basso permette al robot sì di avere una stima accurata della mappa tuttavia non permette adesso di esplorare attivamente nuove aree analizzando un set particolare di valori legati a parametri di ricerca è possibile definire un valore per tale coefficiente il quale offre un buon compromesso tra tutti i requisiti come è possibile vedere l'algoritmo riesce a stimare correttamente la mappa la presenza del rumore all'interno della visualizzazione è dovuto appunto a missed detection e clutter ovvero false misure è importante sottolineare che la variazione del parametro weight area deve venire in base al contesto operativo il quale è dipendente comunque dai vari parametri caratterizzanti della ricerca possibili sviluppi futuri di questo algoritmo vi sono sicuramente la possibilità di introdurre landmark estesi e natura dinamica i quali sono descrittori di categorie di elementi reali come ad esempio pareti e automobili inoltre vi è la possibilità di introdurre più robot all'interno dello scenario caratterizzati dalla solita logica attiva e analizzare il loro consenso di informazione inoltre è possibile introdurre tecniche di filtraggio multioggetto più avanzate le quali offrono un maggiore livello di accuratezza barra robustezza grazie per l'attenzione bene grazie ci sono domande se non ci sono domande ne vorrei fare una io molto semplice mi scuso io non sono mi occupo di robotica sono semplicemente un ingegnere meccanico però ecco riguardo tutto lo studio viene impostato su una combinazione matematico statistiche molto molto approfondite molto interessanti ma riguardo a queste considerazioni ci sono in letteratura dei dati di riferimento su quelle che sono come è un'identificazione ottica o comunque su quelle che possono essere le tipologie di disturbo di distribuzione di incertezza cioè ci sono dei modi per validare rispetto a dei dati reali questo lavoro è molto interessante beh sicuramente disturbi di incertezza vi sono di varia natura è possibile introdurre come abbiamo visto rumori di processo rumori di misura all'interno del comunque della trattazione io nella mia tesi ho variato anche tali parametri vedendo appunto se vi sono comunque degli effetti risultanti e quindi cercando quella che è fondamentalmente la configurazione migliore e cercando anche la configurazione oltre il quale l'algoritmo più non funziona quindi legato magari a disturbi di processo disturbi di misura quindi sì sicuramente la tesi si basa su una trattazione comunque che comporta anche disturbi di questo tipo ecco va bene grazie grazie altre domande potrei averne una diciamo anch'io un po' non esperto di queste cose ma tu hai parlato spesso di landmark no? ecco come il sistema è in grado di individuare un landmark da un qualcosa che non è un landmark diciamo che cos'è che allora sostanzialmente ho modellizzato il sistema in questo modo siccome la tesi è eseguita tutta tramite script ho ipotizzato che ci fosse una mappa reale definita appunto attraverso tali punti che sono i landmark i punti i famosi punti rossi che sono presenti nella visualizzazione attraverso il sensore calcola quei parametri di distanza angolo con tali punti se ovviamente vi è il requisito di accesso all'insieme totale è se la probabilità comunque associata alla misura è inferiore rispetto alla probability of detection allora impostata dall'utente allora il landmark viene inserito nell'insieme reale però può essere anche a sua volta non inserito perché è tutto un concetto legato alla probabilità di inserimento per modellizzare comunque la realtà cosa si è fatto sostanzialmente sono stati sono introdotti nell'algoritmo anche false misure e appunto mancate misurazioni quindi sostanzialmente i parametri in ingresso sono quelli legati ai landmark solamente quelli poi è possibile riuscire a vederli come a non vederli però la mappa è dettata da quello è come se vi sono solamente quelli di punti caratteristici che il robot può analizzare ok grazie va bene passiamo quindi al prossimo candidato che è Liverani Gerardo vediamo se riesco a passarti ecco quindi dovrei poter condividere immagino schermo sì vediamo fino a 6 funziona? non lo so non mi rendo conto ancora no ok condivido ecco adesso sì ok quindi buongiorno sono Gerardo Liberani e mi presento con una tesi dal titolo sviluppo e testing di algoritmi di controllo cinematico e visuale per manipolatori subacquei la tesi si colloca nell'ambito del progetto suono un progetto finanziato dal MIUR che ha visto la collaborazione dell'università di Firenze e di varie aziende italiane il progetto suono ha come obiettivi applicazioni per l'ambito oil and gas in particolare tra gli scopi è presente quello dello sviluppo di un sistema di controllo per un sistema di tipo UVMS cioè un underwater vehicle manipulator system questo è la combinazione di un ROV un veicolo guidato a distanza e un manipolatore in particolare l'obiettivo della tesi è stato lo sviluppo del sistema di controllo per il manipolatore tramite stima della posa con la stima della posa tramite telecamera quindi la struttura della tesi è la seguente verrà fatto vedere la tecnica di assorbimento visivo scelta per il manipolatore come viene stimata la posa che esso dovrà in cui esso si dovrà portare la generazione della trattoria per l'end effector del manipolatore il controllo utilizzato per i singoli giunti e poi infine l'implementazione in codice e i risultati ottenuti sia in simulazione sia tramite test in laboratorio per quanto riguarda l'algoritmo assorbimento visivo è stato scelto un algoritmo di tipo un algoritmo di tipo indiretto o look and move questo perché si ritiene sia più più robusto ad eventuali fallimenti del sistema di visione per quanto riguarda la stima della posa desiderata per l'end effector questa deve essere riferita alla terna base del manipolatore in particolare è necessario ottenere quindi delle trasformazioni omogenee che ci permettano di passare dalla terna base dell'end effector alla posa desiderata la prima che è necessaria è chiaramente la posa che porta direttamente dalla base del manipolatore all'end effector questa viene calcolata tramite la cinematica diretta del braccio robotico ottenuta tramite i parametri di denamità Attenberg che sono stati calcolati tramite i disegni tecnici del manipolatore in particolare questo è il manipolatore UMA fornito dalla Graaltech dalla ditta Graaltech la seconda che ci interessa è la trasformazione che passa quindi che esprime la posa della terna camera interna in effector questa è fissa poiché è stata scelta una configurazione del tipo A in-end e quindi può essere misurata in fase di progetto la stima della posa poi del target viene effettuata tramite telecamera e quindi viene estrapolata dalle informazioni provenienti da essa la posa di un marker espresso nella terna camera infine l'ultima trasformazione che ci interessa è quella che permette di passare dal marker quindi che esprime la posa desiderata nella terna marker complessivamente la composizione ci porta ad avere la posa desiderata per l'end effector in termini e nel riferimento della terna base poiché è stato scelto di utilizzare una telecamera prima bisogna effettuare una calibrazione sulla camera stessa questo significa scegliere un modello in questo caso è stato scelto un modello pinhole che porta alla matrice di calibrazione e ai parametri di distorsione della telecamera che sono detti parametri intrinseci della telecamera questi vengono stimati tramite un processo di minimizzazione dell'errore di decruzione che viene effettuato acquisendo immagini di punti noti nello spazio tramite pattern a scacchiera di cui si riporta un esempio nell'immagine per la stima della pose invece dell'end effect è stato effettivamente utilizzato un augmented reality marker questi sono stati utilizzati perché sono estremamente semplici da trovare all'interno delle immagini hanno dei tempi di calcolo molto bassi e una stima della pose estremamente accurata in particolare sono state utilizzate dei marker noti come Aruco sviluppati dall'università di Cordova e di cui si riporta sempre nell'immagine un esempio una volta acquisita la pose desiderata per l'end effect è necessario generare la traiettoria che ci porti dalla pose attuale dell'end effect fino a quella desiderata questo viene fatto in maniera differente per posizione e l'orientazione per quanto riguarda la posizione è stata utilizzata una interpolazione convessa tra il punto iniziale e il punto finale lineare convessa tra il punto iniziale e il punto finale mentre invece per quanto riguarda la parte di orientazione è stato necessario utilizzare un algoritmo detto SLERP o spherical linear interpolation questo perché l'orientazione è espressa in quaternioni e la spherical linea interpolation è l'equivalente dell'interpolazione lineare complessa nello spazio dei quaternioni per quanto riguarda invece il profilo di velocità scelto per le traiettorie poi per le singole componenti delle traiettorie queste sono state scelte trapeziali e vengono guidate da un parametro lambda funzione del tempo e i cui diciamo che è definito come un polinomio definito a tratti e i cui parametri sono scelti in modo tale da rispettare le velocità massime e le accelerazioni massime del manipolatore nello spazio operativo la legge di controllo utilizzata poi per controllare i singoli giunti è stata una legge di controllo cinematica questa genera le velocità dei singoli giunti del manipolatore si basa sull'inversione della cinematica differenziale del braccio robotico in particolare viene utilizzato il giacobiano e in realtà la sua pseudo inversa per invertire le equazioni differenziali le equazioni della cinematica differenziale del manipolatore questo permette di generare sia le velocità desiderate nello spazio operativo sia di correggere l'errore della traiettoria che viene commesso durante l'esecuzione della traiettoria se il giacobiano dovesse perdere di rango si possono creare problemi come all'aumento delle singole velocità dei giunti del manipolatore e quindi è necessario utilizzare una pseudo inversa smorzata per correggere questi problemi il tutto il sistema è stato implementato tramite ROS Robot Operating System questo è un ambiente di sviluppo nei codici di C++ o Python che è mirato per le applicazioni della robotica si basa su una struttura grafo in cui ogni elemento del grafo è chiamato nodo e rappresenta un applicativo o un'unità di calcolo che esegue un certo algoritmo ogni nodo può comunicare con gli altri nodi tramite un sistema di topic che è basato su una struttura di tipo publisher subscriber che permettono quindi di comunicare si dice di pubblicare che permette a ogni nodo di pubblicare su un topic e agli altri nodi di ascoltare i dati pubblicati su questo topic tramite delle funzioni di tipo callback quindi l'implementazione il lavoro eseguito durante la testa è stata l'effettiva implementazione dei nodi all'interno del sistema ROS in particolare è stato implementato il nodo che esegue la steam della posa del marker questo tramite le librerie di OpenCV questo genera la posizione la posa stimata del marker interna camera che viene passata tramite topic alla generazione di traiettorie la quale a sua volta genera le traiettorie la traiettoria esiderata che deve essere inseguita dall'end effector il controllo click riceve questa traiettoria e genera le velocità dei singoli giunti del manipolatore affinché queste vengono poi mandate al controllo dinamico del manipolatore che è stato fornito dalla ditta produttrice per quanto riguarda i risultati sono stati fatti sia test in laboratorio sia test in simulazione per quanto riguarda il sistema di visione è stato scelto semplicemente di controllare che durante l'esecuzione dell'algoritmo non ci fossero degli outlier particolarmente significativi cosicché non ci fossero poi dei comportamenti indesiderati durante l'esecuzione effettiva del manipolatore le traiettorie sono state generate in maniera corretta sia in simulazione sia nei casi reali sia nei test di laboratorio perché non dipendono dal sistema a cui sono collegate e si può vedere che effettivamente hanno il profilo terpizionale scelto per le velocità delle singole componenti delle traiettorie le prove in simulazione sono state eseguite tramite un simulatore cinematico che rappresenta il manipolatore effettivo su cui poi verranno eseguiti i test pratici in laboratorio e risultano essere estremamente promettenti perché permettono di diciamo è visibile un errore che è al di sotto del millimetro per quanto riguarda la posizione chiaramente e l'orientamento invece le prove in laboratorio sono state eseguite nel laboratorio di mutilazione dinamica e meccatronica dell'università di Firenze a Pistoia dove si trova il braccio UMA che è un braccio a sei gradi di libertà e in questo caso le prove sono state eseguite con il supporto di un mock-up di un pannello su cui è attaccato il marker e lo scopo è stato quello di provare a mandare il manipolatore sufficientemente vicino al pannello e alle maniglie distaccate per controllare effettivamente che poi sia possibile effettuare una seconda fase di avvicinamento ulteriore alle maniglie e di presa sulle maniglie stesse anche in questo caso sono soddisfacenti i risultati ottenuti poiché l'errore si mantiene limitato nell'intorno del millimetro dalla posa desiderata durante la traiettoria in conclusione è stata implementata una tecnica di controllo cinematico la stima della posa desiderata per l'effetto è stata ottenuta tramite l'utilizzo di marker il sistema è stato testato prima su un simulatore cinematico e poi su un manipolatore reale per quanto concerne gli sviluppi futuri sarà chiaramente necessario avere un sistema di controllo che comprenda sia il veicolo sia il manipolatore questo si pensa di farlo tramite un sistema detto task priority inverse kinematics sarà necessario riconoscere direttamente il target della manipolazione della missione tramite automatic target recognition senza passare dal marker e chiaramente saranno necessari di test sul campo in ambiente subacque grazie per l'attenzione se ci sono domande rimango a disposizione bene grazie ci sono domande? se non ci sono domande ne farei una 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 io però anche qui molto semplice dettata da ignoranza della materia ecco il a un certo punto lei parla giustamente di calibrazione della telecamera all'inizio volevo chiederle se come questi test sono riferiti a provenare a se esiste in letteratura qualche maniera per correlare o per creare dei modelli come dire di distorsione avrebbe il comportamento della telecamera se fosse in acqua per effetto del differente indice di rifrazione oppure del fatto che magari non conta per la vostra applicazione anche i colori vengono falsati in maniera selettiva ci sono dei modelli a riguardo non sono stati presi in considerazione durante questa tesi perché il braccio è chiaramente posizionato fuori dall'acqua come si è visto durante le prove in laboratorio comunque sono presenti sono stati fatti dei test anche a riguardo dipende molto chiaramente dalle condizioni in cui ci si trova ecco è possibile falsare l'informazione ideale che stai avendo dalla telecamera in aria con qualcosa che introduca sull'acquisizione queste ah no ho capito spesso male perché non sono no no si figuri non avevo capito no penso che di solito in questi casi si possono fare direttamente dei test in acqua eventualmente introducendo si possono fare direttamente dei test in acqua ecco va bene grazie mi scusi no va bene qualche altra domanda va bene ok passiamo quindi al prossimo candidato mela alberto dove si uscive da si sto cercando di trovare un modo di far collaborare scusate è la prima volta che uso come si fa eccolo non lo trovavo mila alberto eccolo qua adesso diamo la parola alberto mila ecco puoi già presentare ditemi se o quando si vede si si a posto puoi cominciare grazie perfetto allora mi presento sono alberto mila e vi mostrerò ora la tesi che ho sviluppato in collaborazione con l'azienda skyway system nella quale ho sviluppato il modello dinamico di un drone ad alla fissa con capacità VTOL i droni anche detti aeromobili a pilotaggio remoto sono aeromobili in grado di volare in maniera autonoma senza necessità di personale umano a bordo ne esistono di varie tipologie a loro volta classificate in vari modi ma i due generalmente più comuni sono i droni alla fissa e i droni multirotore i droni alla fissa in particolare godono di grossi vantaggi al punto di autonomia efficienza e velocità un esempio di drone alla fissa è il rapier X25 un mini UAV tattico sviluppato dalla SkyEye che ha numerose applicazioni sia in campo civile che in campo militare l'obiettivo di questa tesi consiste nel partire da alcuni dati sperimentali derivati dal prototipo dell'API X25 forniti dalla SkyEye al fine di sviluppare un modello di UAV con alla fissa con capacità VTOL ossia di vertical take off and landing che siano in grado di fornire al costo di un aumento del peso la capacità al drone di decollare e atterrare in maniera verticale nonché di effettuare manovri di hovering quindi come questo drone sarà in grado di effettuare due modalità di volo modalità di volo ad alfissa e modalità di volo VTOL la modalità di volo VTOL è ottenuta mediante quattro eliche connesse alle barre di coda chiaramente raccopiate a quattro motori sono stati selezionati quattro motori elettrici BLDC e eliche e motori sono stati selezionati da cataloghi online di produttori questo metodo di volo gode di un'elevata stabilità posizionale e di un'elevata manovrabilità nello spazio tridimensionale tuttavia è soggetto a velocità molto basse inoltre poiché il SNAV-TOL deve generare per intero la potenza necessaria a sollevare il drone la spinta necessaria a sollevare il peso del drone è soggetto anche a consumi molto elevati anche causati dal fatto che per scasse velocità le eliche sono soggette a coefficienti di avanzamento molto ridotti e quindi soggetti cioè caratterizzati da punti di efficienza ridotti dalle eliche tuttavia quindi questo sistema diventa fondamentalmente utilizzato al fine di decollare e attirare in maniera verticale o al limite effettuare le manovre di hovering per questo sistema di volo è stata sviluppata una logica di volo basata su quattro azionamenti che agiscono in parallelo sui quattro motori ciascuno dei quali costituito da pionelli in retrazione che controllano rispettivamente la quota la posizione frontale la posizione laterale e l'orientazione in base ai riferimenti posizionali x, y, z e a un riferimento di orientazione che può essere alternativamente fornito o esternamente o essere automaticamente valutato dal sistema di controllo come differenza angolare tra la direzione attuale e la direzione che congiunge il punto attuale del drone al punto successivo del waypoint per quanto concerne invece la modalità di volo ad alla fissa questa si basa su un motore di coda sempre BLDC selezionato da cataloghi e accoppiato a un'elica e sulle ali e sulla coda a cui sono incenerate quattro superfici di controllo due sulle ali e due sulla coda necessari per effettuare le manovre questa modalità di volo è molto vantaggiosa in quanto in grado di eseguire velocità frontali molto elevate inoltre godendo di un rapporto tra lift e drag delle ali molto elevato dato dall'efficiente struttura dinamica delle ali fa sì che la spinta generata dal motore di coda sia necessariamente sia necessaria a compensare soltanto una piccola parte del peso del drone e quindi a far sì che questo modalità di volo sia legata a consumi molto ridotti tuttavia affinché le ali generano una portanza sufficiente a consentire il volo è necessario avere una certa velocità minima e ogni volta questo sistema di volo non è in grado di effettuare spostamenti laterali per cui via di queste caratteristiche lo si usa fondamentalmente per il volo di crocea anche per questo sistema di volo è stato sviluppato un sistema di controllo anche basato su quattro azionamenti il primo azionamento agisce sul motore di coda al fine di controllare la quota il secondo azionamento agisce sulle superfici di controllo incenerate sulle ali dette aileron controlandoli in maniera antisimmetrica al fine di generare il momento di rollio necessario a effettuare la virata e quindi seguire un riferimento di orientazione per gli ultimi due azionamenti invece ci si basa sulle superfici di controllo incenerate sulla coda dette rudder vetro che sono in grado di eseguire contemporaneamente gli effetti di rudder e rievetro comunemente riscontrati dalle omonome superfici influenziate nelle code convenzionali AT invertita l'effetto di rievetro è ottenuto controllando le superfici di controllo della coda in maniera simmetrica ed è utilizzato per controllare la velocità del drone mentre invece l'effetto equivalente di rubber è ottenuto azionando le superfici di controllo della coda in maniera antisimmetrica ed è utilizzato al fine di generare un contrasto attivo agli effetti di disturbo di cross interazione tra il collio e l'imbardata dovuti alla virata dal momento dal momento che questi sistemi di volo necessitano il controllo simultaneo in parallelo di numerosi attuatori ossia 5 motori brushless e 4 superfici di controllo orientabili è stato optato a livello di sistema di alimentazione per un sistema di alimentazione ibrido serie notevolmente vantaggioso in quanto a attuazione e il controllo anche se leggermente sconveniente dal punto di vista del rendimento rispetto a rispetto a altri tipi di configurazioni tipo la configurazione puramente endotermica o il bidro parallela come è ampiamente studiato in altre tesi e articoli questa configurazione tuttavia ha un brodo di numerosi vantaggi tra i quali la possibilità di dimensionare il motore endotermico unicamente per il volo di cocea e far sì che la potenza necessaria all'effettuazione dell'imanore VTOL naturalmente superiore rispetto al volo di cocea sia adatta alle batterie questo sistema infatti è costituito da un pacco batterie completato da un motore endotermico generalmente mantenuto in configurazione di range extender ossia connesso a un generatore che trasforma l'energia meccanica generata dal motore endotermico in energia elettrica per i sistemi di attuazione il motore endotermico per poter funzionare in funzionalità di range extender necessita di un accoppiamento ottimo con le batterie per ottenere questo accoppiamento ottimo è stata eseguita una mappatura dell'efficienza del motore al fine di identificare una curva di massima efficienza relativa in base al regime di funzionamento mostrata in rosso qui nel grafico e su di essa identificare un punto di massima efficienza assoluta in cui mantenere il motore endotermico quando funziona in modalità range extender questo sistema di alimentazione è controllato da un sistema di controllo che ritraziona lo stato di carica al fine di mantenere un rapporto ottimale tra la potenza generata dal motore endotermico e quella che può essere fondi tra le batterie sono quindi identificati tre livelli di riferimento un livello di riferimento ottimo considerato come livello di batterie completamente cariche e due livelli di riferimento intermedi per cui se lo stato di carica è inferiore a un primo livello di riferimento definito dalle specifiche di progetto alla politica range extender viene affiancata una strategia load follower differenziata in base allo stesso tipo di volo mentre se invece il stato di carica delle batterie scende al di sotto di un livello di soglia definito dai parametri di sicurezza dell'emissione alla politica range extender viene completamente sostituita una politica load follower per consentire al motore endotermico di funzionare a massima potenza e compensare la scarsa capiccia delle batterie di fornire potenza rimanendo in condizioni di sicurezza come ve l'ho detto quindi questo sistema di questo rodrone è in grado di eseguire due modalità di volo fortemente disgiunte e caratterizzate da condizioni operative molto diverse tra loro diventa quindi necessario identificare una modalità di transizione per passare da un sistema di volo all'altro per quanto riguarda la transizione della modalità di volo VTOL alla modalità di volo ad alla fissa sono state identificate numerose modalità al fine di confrontarle e valutare le vantaggi e svantaggi di ciascuna una prima modalità consiste nell'effettuare dopo il ricollo VTOL uno spegnimento del VTOL attivando poi il controllo attivando subito il controllo alla fissa e forzando il motore di corsa a spingere al massimo così facendo l'energia potenziale guadagnata in fase di ascesa durante il ricollo VTOL viene convertita in spinta gravitazionale che insieme alla spinta del motore di coda far guadagnare molto rapidamente al drone la velocità necessaria per il funzionamento del motore di volo ad alla fissa in questo modo non appena si raggiungerà la velocità minima la fissa otterrà la capacità di generare la portanza sufficiente e quindi si passerà al volo di crociera questa modalità tuttavia gode di numerosi vantaggi da cui la rapidità di esecuzione e lo sperso consumo di energia tuttavia è soggetta a una forte parità di quota rispetto alla quota di transizione che è considerato un elemento molto svantaggioso delle transizioni e inoltre durante la fase di transizione non essendo attivo il QTOL e non essendoci la velocità minima per garantire la funzionalità delle superfici di controllo non è effettivamente possibile effettuare un controllo di volo del drone questo soprattutto in base alle normative vigenti sulla possibilità di rendere commercializzabile un drone con capacità VTOL non è un metodo di transizione adoperabile tuttavia è un buon metodo di confronto rispetto alle altre tipologie di transizione un secondo metodo invece molto interessante è un metodo che consiste in utilizzare durante la fase di transizione il QTOL con lo scopo di mantenere una coda fissa nel frattempo appena inizia la transizione si attiva il motore di coda per chiedere la massima spinta così da acquisire la velocità frontale necessaria alla generazione della portanza per effettuare il volo di crocella questa modalità di volo è molto conveniente dal punto di vista della stabilità e del controllo di volo durante la fase di transizione tuttavia è soggetta a lunghe tempistiche di transizione in quanto la spinta per guadagnare l'accelerazione è data unicamente dal motore di coda e quindi visto che il VTOL è molto oneroso dal punto di vista energetico rimane attivo per tutta la transizione è soggetto anche a consumi molto elevati visti questi due casi estremi è stato analizzato un gran numero di casi intermedi di cui adesso riportirò solamente un paio che sfruttano degli effetti combinati di questi due per esempio c'è un terzo metodo che ho mostrato che è analogo al primo metodo che sfrutta anche qui la spinta gravitazionale per acquisire velocità ma mantenendo il buttolo attivo per controllare la caduta e soprattutto per mantenere un certo livello di controllo del drone durante la fase di transizione un altro metodo considerato stavolta analogo al secondo metodo mostrato così nel mantenere il buttolo al fine di mantenere attivo per mantenere una quota costante durante la transizione ma usando il buttolo anche per ottenere un certo livello di spinta frontale in modo da affiancare alla spinta ottenuta dal motore di coda anche la spinta del buttolo e velocizzare in questo modo il tempo di transizione riducendo di conseguenza i consumi questi due metodi sono caratterizzati dalla possibilità dal fatto che sfruttano in gran parte l'enshaking fisico di transizione tra le due modalità di volo ossia dal fatto che la modalità di volo VTOL e la modalità di volo alla fissa necessitano delle stesse caratteristiche di beccheggio per guadagnare velocità frontale o per ridurre la velocità frontale di conseguenza possono essere mantenuti attivi contemporaneamente durante la fase di transizione al fine di cooperare per eseguire la manovra per quanto invece riguarda la transizione dal volo alla fissa al volo VTOL sarà eseguito un solo metodo in quanto particolarmente efficiente nell'esecuzione analogo analogo al terzo metodo mostrato che alla fine della fase di crociera subito prima dell'atterraggio spegne il motore di coda e attiva dando un riferimento di velocità al volo alla fissa nullo in modo tale che questo generi un beccheggio positivo tale da trasformare la velocità in energia potenziale e lo stesso tempo viene attivato la modalità VTOL spingendo al massimo e sfruttando il beccheggio positivo ottenuto velocemente dal controllo della fissa per massimizzare l'effetto frenante del VTOL che come detto poco fa sfrutterà l'enshaking fisico per ottenere un beccheggio positivo e quindi aumentare l'effetto frenante questa modalità riesce a frenare molto in fretta e con bassi consumi il drone al costo di un piccolo guadagno di quota che non è rilevante dal punto di vista delle condizioni operative in cui viene eseguito questa modalità di transizione dopodiché non appena la velocità raggiungerà livelli paragonabili con la velocità di controllo del VTOL si passerà all'atterraggio effettuato con modalità semplicemente VTOL spegnendo il controllo ad alla fissa quindi definito la struttura del drone e le logiche di controllo sono state sfetturate un gran numero di test per validare la robustezza e l'affidabilità del sistema generale creato ora riporterò sull'antolo il massimo ho paura c'è andata via la connessione aspettiamo un attimo pronto Alberto ci senti ecco ci senti seguito poi a sua volta da un certo numero Alberto riparti dal lucido precedente perché c'è stato scusa il termine un buco audio scusa si è perso per un lucido oddio chiedo scusa dalla fine del precedente scusa scusa chiedo scusa da qui si dalla fine è arrivato quasi in fondo stai per passare successivo mi scuso dell'intervento no 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 per l'amore del cielo non me ne sei accorto dicevo ricapitolando per concludere questo lucido viene effettuata la transizione dalla fissa a fase VTOL usandole un shaking fisico tra le due modalità di volo quindi sfruttando la capacità dell'unità di volo di collaborare per ottenere un beccheggio positivo e quindi posizionare il drone in un'ottima posizione per sfruttare la spinta VTOL come effetto frenante una volta che la velocità del drone scende a un livello paragonabile a quello gestibile dal controllo VTOL si isattiva il controllo alla fissa e si effettua un atterraggio VTOL dopodiché effettuato il dimensionamento del drone e definito i metodi di controllo dei metodi di volo e sono stati eseguiti numerosi test per validare la robustezza e l'affidabilità del sistema sviluppato riporto ora soltanto la simulazione più significativa che è una simulazione effettuata su un piano di volo utilizzato dalla Sky Air System per testare un prototipo del KPX25 riadattato poi per questo tipo di drone questa modalità di volo sfrutta un piano di volo basato su waypoint che ha punto di partenza e zona di volo intorno all'aeroporto di Fubara nel Lazio l'aeroporto militare di Fubara nel Lazio questo piano di volo prevede un decollo VTOL seguito da una fase di transizione utilizzando il metodo il terzo metodo mostrato ovvero sia la strategia che converte l'energia potenziale generata dal decollo in spinta gravitazionale ma in maniera controllata dal VTOL seguito poi da una serie di manovre in modalità alla fissa finalizzate alla guadagnia di quota arrivato poi alla quota obiettivo mi ha eseguito un primo volo sul mare a quota fissa per testare le capacità di crociera del drone seguito poi da un secondo volo sul mare molto più lungo che in fase di andata alterna fasi di ascesa con fasi a quota fissa e in fase di ritorno effettua una lunga manovra di planata ritornati poi all'altezza dell'aeroporto di Fubara mi ha eseguita la transizione dalla fissa a VTOL e quindi l'atterraggio esattamente il punto di partenza in conclusione è stato realizzato il modello di un drone alla fissa con capacità VTOL e alimentazione ibrido serie e questo sistema è stato poi testato con numerose simulazioni per validarne e confrontarne i risultati questa tesi può essere ulteriormente sviluppata confrontandola con ulteriori sistemi di VTOL realizzati con configurazioni diverse o con diverse tipologie di sistemi di alimentazione e sarebbe inoltre interessante valutare una validazione di tutto questo lavoro simulativo attraverso la realizzazione di un prototipo per la verifica sperimentale grazie per l'attenzione e se ci sono domande bene grazie ma mi sono temi che fosse sperito l'ordine no nessun problema è interessante ci sono domande una curiosità è vero immagino che per effettuare le manovre di transizione da un regime o un altro venga utilizzata per la stima di velocità la misura del GPS ritieni che possa essere importante avere un sistema di misura di velocità di backup nel caso che ci fosse un buco diciamo un momentaneo deterioramento del segnale GPS proprio nell'istante in cui bisogna fare la transizione in realtà i parametri fisici utilizzati durante la fase del controllo di volo sono ottenuti da sensori a bordo in grado di valutare l'accelerazione e quindi in base alla valutazione dell'accelerazione ne accoppiano al GPS una valutazione di velocità anche di altro tipo comunque sì un sistema di backup sarebbe sicuramente molto interessante per aumentare ulteriormente la precisione ok grazie io se posso dicevo giusto una cosa velocissima alla slide 8 visto che si parlava del peso delle batterie non ho capito se è della singola cella o di tutto il pacco batterie mi sembrava molto ridotto no questo è il peso qui forse l'ho espresso male nel modo quelli sono i dati della singola cella e poi la batteria è stata rifletturata è un dato della singola batteria sono state utilizzate nel pacco batterie e 4 batterie in parola non uguali ok quindi stiamo parlando di meno di 12 kg comunque sia per tutto il pacco batterie sì tutto il comparto VTOL e il sistema di alimentazione ha causato rispetto alla PX25 un aumento di peso di circa 12-13 kg quindi sì il comparto batterie ha un peso naturalmente inferiore rispetto a 12 kg pensi che ci possa essere margine di miglioramento con altre tecnologie di batteria sicuramente adesso io ho utilizzato durante questa con questa tesi un'alimentazione di ibrido serie apposta per anche dare la possibilità alla SCREI utilizzando il mio lavoro di effettuare un confronto con i loro sistemi che sono fondamenti con il sistema che utilizzano attualmente la PX25 che è un sistema puramente endotermico inoltre ci sono altri studi in corso su eventuali altri possibili sistemi di alimentazione per esempio il sistema ibrido parallelo è sicuramente molto interessante effettuare dei confronti tra varie tipologie di alimentazioni sia dal punto di vista dell'efficienza di generazione della potenza che dal punto di vista del peso come parliamo poco fa dovuto al sistema energetico perfetto grazie mille bene anche io magari giusto una curiosità avrei che cosa che hai raccontato che cosa succede alle eliche quelle per la spinta verticale quando è in generale cioè nel senso in qualche modo diciamo peggioro le caratteristiche di volo disturbano in qualche modo immagino che aumentano il drag allora l'influenza delle eliche del butol in fase di di volo di cocerra è stata relativa non particolarmente considerata in quanto di rispetto ai effetti dei coefficienti dimensionali utilizzati per dimensionare le ali sarebbero praticamente rilevanti adesso qui non mi sono dilungato particolarmente nei dimensionamenti ma va considerato che questo qui è un drone la cui apertura l'aria è intorno ai 3-4 metri e queste qui sono eliche che hanno un diametro di 40 cm di conseguenza l'effetto dell'elica una volta spento il motore che peraltro si posiziona autonomamente per effetto di aerodinamico in una posizione di scarsa influenza è praticamente ignorabile quanto più nell'ambito di questo di questo livello di precisione e lo sviluppo della tesi perché per effetto aerodinamico si posiziona in maniera longitudinale immagino esatto e questo riduce l'impatto nell'influenza dei coefficienti dimensionali usati per valutare l'effetto della struttura aerodinamica del drone nel volo va bene se non ci sono altre domande passiamo all'ultimo candidato ora non è santo capire come si fa Goetti Francesco sì Goetti Francesco eccolo qua allora con il si vede la presentazione mi sentite sì si vede allora perfetto buongiorno a tutti sono Francesco Goetti il lavoro di tesi che vado a presentare tratta dell'applicazione di tecnica di deep learning per la previsione dell'evoluzione dello scompenso cardiaco lo scompenso cardiaco è definito dall'European Society of Cardiology come una sindrome clinica causata da un'alterazione cardiaca strutturale o funzionale che causa una ridotta funzionalità o un'elevata pressione intracardiaca in poche parole il cuore non riesce a pompare in maniera efficiente il cuore in tutti i nostri distretti causando sintomi tipici quali mancanza di fiato e spossatezza che poi possono essere accompagnati da altri segni la prevalenza del mondo è piuttosto importante infatti si stima che più di 64 milioni di persone ne siano affette l'incidenza aumenta notevolmente quando si va nella fascia degli over 65 l'eziologia dello scompenso cardiaco comprende malattie del miocardio condizioni di carico anormali quale ad esempio ipertensione aritmie e comorbidità la diagnosi iniziale prevede l'analisi del BNP valore molto importante e rappresentativo dello stato dello scompenso ricavabile da delle analisi del sangue inoltre l'analisi dei segni e sintomi che sono però molto variabili è di fondamentale importanza il tutto è di solito accompagnato da delle analisi strumentali come l'elettrocardiografia l'ecocardiografia eccetera la prognosi purtroppo è rappresentata da una ridotta qualità di vita ed è difficile da stimare quantitativamente infatti nel European Journal of Earth Failure si riporta come gli stessi medici spesso siano riluttanti a comunicare informazioni quantitative lo stesso articolo riporta un aspetto piuttosto interessante ma anche preoccupante dello stato dello scompenso cardiaco ad oggi che nonostante gli sviluppi delle terapie non sia affatto diminuito questo a causa dell'aumento dell'età media delle popolazioni e quindi una maggiore quantità di persone nella fascia di età più colpita e la diffusione della problematica nelle fasce di età più giovane in Italia lo scompenso cardiaco copre circa l'1,5% della popolazione e si stima che circa un milione di pazienti in Italia ne sia affetto è un grande carico anche a livello economico in quanto circa il 2% dei costi sanitari sostenuti al sistema sanitario nazionale ne sia sottoposto quindi a causa dell'alto tasso di ospedalizzazione e riospedalizzazione e l'alto costo della gestione si vede come annualmente vengono investiti circa 3 miliardi di euro inoltre è la prima causa di morte per cause cardiovascolari in Italia quindi l'obiettivo di questo lavoro di tesi è stato sviluppare due sistemi distinti uno per la classificazione dell'entità dello scompenso cardiaco e ottenere quindi una diagnosi precoce e la riduzione dell'ospedalizzazione e della mortalità e la previsione dell'entità nelle visite future per progettare al meglio la terapia e ridurre quindi le riospedalizzazioni inoltre si spera che possa essere di aiuto a fornire prognosi quantitative con più sicurezza il presente lavoro di tesi è stato possibile grazie alla collaborazione con l'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze facente parte dell'azienda Uzzle Toscana Centro in particolare col reparto di cardiologia la collaborazione ha avuto inizio nel 2013 nell'ambito della tesi di dottorato dell'ingegner guidi conclusesi nel 2016 realizzando fra le varie cose un sistema per la gestione dei pazienti scompensati e un primo classificatore basato su machine learning la raccolta dati è continuata fino ad oggi raggiungendo 1888 registrazioni provenienti da 760 pazienti diversi come si può intuire dal numero di citazioni il lavoro del 2014 è stato utilizzato e migliorato da numerosi studiosi nel corso degli anni per questo l'obiettivo principale di questo lavoro è stato anche quello di definire un nuovo livello più alto per lo stato dell'arte quando si parla di stato dell'arte associato ai sistemi di supporto alle decisioni non si può non menzionare il deep learning il deep learning è una branca dell'intelligenza artificiale che mira a imitare i processi delle reti neurali biologiche infatti l'algoritmo fondamentale si chiama rete neurale artificiale ed è l'appellativo deep invece proviene dal fatto che dispone di più livelli di elaborazione dei dati chiamati anche livelli nascosti è stato dimostrato come siano particolarmente efficienti anche rispetto al machine learning per strutture dati molto complessi e per grandi quantità di dati con gli anni si sono sviluppate poi altre reti specifiche per determinati problemi le convolutional neural network ad esempio che dominano il campo delle immagini e invece le recurrent neural network in grado di apprendere informazioni anche dall'ordine in cui vengono presentate le istanze quindi particolarmente efficienti per dati longitudinali e natural language processing prima di entrare nel cuore del lavoro è opportuno un piccolo focus sul dataset come detto è composto da quasi 1900 registrazioni e 44 features diverse provenienti da dati anamnestici ECG comorbidità ed eventuali terapia è stata eseguita un'operazione preliminare di pulizia dei dati rimuovendo quelli con un numero eccessivo di features mancanti e rimuovendo le features a bassa varianza la funzione obiettivo è l'entità che come si può vedere dalla tabella riportata nella slide è caratterizzata da uno sbilanciamento delle classi il primo approccio quello per la previsione dell'entità alla visita futura è stato effettuato utilizzando una rete multi input composta da tre rami differenti il primo ramo gestisce i valori per cui ha senso definire un andamento temporale ed è quindi gestito da una recurrent neural network gli altri due tipi di dati chiamati binari e ordinali invece sono stati definiti trattati da delle reti neurali classiche infine le informazioni provenienti da questi tre rami vengono concatenate per fornire la previsione finale il flowchart seguito è riportato in questa slide partendo dal dataset sono state eseguite tre operazioni principali di data preprocessing rimuovendo i record senza follow up in quanto non disponevano di un'entità futura da prevedere la scalatura delle feature a media zero e varianza unitaria e l'interpolazione del bnp che come detto è un valore estremamente importante ma faceva parte anche di quelle feature con molti valori mancanti per questo è stato assegnato in caso di assenza un valore proporzionale alla classe attuale in seguito a ciò sono stati generati dati strutturati in maniera opportuna per essere inseriti nella struttura che ho mostrato in precedenza e l'intero test set che a questo punto è stato ridotto a 1037 registrazioni è stato suddiviso in train e test sul train test è stata scelta la rete migliore fra quattro di complessità diverse tramite una procedura di tenfold cross validation sono stati variati anche il peso assegnato alle classi per combattere lo sbilanciamento e la strategia di padding che a breve andrò a illustrare infine il modello migliore è stato valutato su dei dati mai visti come ho detto è opportuno un focus sulla costruzione dei dati strutturati nella situazione esemplificativa mostrata in slide si ha un paziente con quattro registrazioni la prima sezione dei tre dati strutturati comprende i dati tempo dipendenti e viene costruita inserendo iterativamente più informazione in funzione dell'istante di tempo considerato poi per uniformare le dimensioni di questa sezione sono state testate due diverse strategie di padding la prima la classica zero padding e l'altra invece ha previsto di ripetere il dato più longevo i dati binari e ordinali sono stati invece assegnati basandosi sull'istante di tempo presente l'entità è stata prelevata dalla visita successiva i risultati sul train test per la rete migliore hanno visto un'accuratezza media del 61,3% un'area sotto la curva ROC di 78,4% e un'area sotto la curva PRC di 60,4% sul test set sono state dimostrate buone capacità discriminatorie di generalizzazione scusate aumentando il punteggio di accuratezza al 69% e ottenendo una matrice di confusione riportata in figura con una buona diagonalizzazione per quanto riguarda invece la seconda fase del lavoro di tesi ovvero la classificazione la novelty è stata inserita tramite il transfer learning una tecnica molto moderna sempre basata su deep learning il cui concetto di base è molto semplice trasferire la conoscenza acquisita per svolgere un test o task ad uno simile questo per superare i problemi legati al raccoglimento di nuovi dati che possono essere molto dispendiosi in tempo e altre risorse l'ispirazione è arrivata da un articolo recentissimo in cui vengono trasformati i dati numerici in immagini per poi essere inseriti in delle convolutional neural network preaddestrate questo perché ad oggi le immagini rappresentano una delle risorse accessibili pubblicamente più vaste nel nostro caso specifico sono state testate la vgg19 e la resnet 101 v2 molto diverse per quanto riguarda la profondità ovvero il numero di livelli di cui dispongono e il numero di parametri addestrabili entrambe sono state utilizzate preaddestrate su image net repository pubblica che contiene più di 14 milioni di immagini il flowchart eseguito in questo caso è stato il seguente partendo dal data set sono state eseguite di nuovo delle operazioni di data preprocessing in particolare la rimozione degli outliers particolarmente dannosa per lo scaling delle feature fra 0 e 1 fondamentale per la fase successiva ovvero la conversione di dati in immagini che a breve andrò a approfondire infine le immagini sono state ulteriormente elaborate con del data augmentation per bilanciare le classi e sono state ridimensionate per matchare con la dimensione dell'input delle reti che ho citato in precedenza che sono state quindi addestrate e se ritenuto necessario sono state eseguite alcune epoche di fine tuning la conversione di dati numerici in immagini ha seguito questo processo è stata realizzata una griglia suddivisa in n slot dove n è pari al numero totale del feature la dimensione delle sezioni è stata definita in funzione della variabilità della feature considerata quindi le feature binarie che possono assumere solamente due valori sono state segnate a un settore più piccolo caso opposto invece per le feature continue che possono assumere più livelli di grigio applicando poi la trasformazione si ottiene una figura come quella rappresentata la fase di elaborazione come accennato ha previsto il ridimensionamento delle immagini in una dimensione di 224 per 224 e la data augmentation invece è stata ottenuta creando nuove istanze ruotando traslando o ribaltando le immagini già a disposizione aumentando la numerosità del test set e del train set come mostrate in figura la resnet 101 v2 ha mostrato un comportamento estremamente instabile ed è quindi stata ritenuta insufficiente per l'esecuzione del compito la vgg19 al contrario ha dimostrato buone capacità di apprendimento assestandosi con un'accuratezza fra il 70 e il 75% è stato quindi deciso di testare l'applicazione del fine tuning per poche epoche di addestramento e ha presentato un innalzamento delle prestazioni in accuratezza arrivando vicina all'80% grazie all'early stopping è stato possibile ricavare con precisione le previsioni effettuate a questo step che sono riportate dalla seguente matrice di confusione come si vede anche in questo caso la diagonalizzazione è discreta quindi concludendo i contributi principali di questo studio sono stati la realizzazione di funzioni per la costruzione di dataset applicabili a modelli di deep learning di varia natura e la realizzazione delle reti per la previsione e la classificazione dell'entità dello scompenso cardiaco questo per permettere la valutazione dello scompenso anche da parte di personale non specializzato e per il professionista invece si spera possa essere utile nella stima dell'evoluzione dello scompenso gli sviluppi futuri prevedono l'ottimizzazione con altri database col deep learning i dati non sono mai abbastanza e quindi si può pensare di ricavare altri dati da progetti e collaborazioni oppure da database pubblici inoltre essendo anche un compito computazionalmente oneroso si può pensare di sfruttare la potenza di strutture di calcolo distribuito infine si può pensare di estendere anche l'approccio a fini epidemiologici per il monitoraggio la programmazione e l'allocazione di risorse non solo a livello locale ma anche centrale quindi USL regionale nazionale e così via concludo con un ringraziamento d'obbligo che va al dottor Massimo Milli e al personale del reparto di cardiologia dell'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze senza i quali questo lavoro non sarebbe stato possibile grazie per l'attenzione bene grazie ci sono domande? ma allora ne avrei una io una curiosità ma nella procedura di data augmentation ho visto che si fa anche una rotazione dell'immagine però diciamo quelle sono immagini che hanno una struttura particolare che riflette quella del dato facendo la rotazione questa struttura si perde volevo capire se questo può avere influenza oppure no poi allora in letteratura diciamo la procedura seguita anche nell'articolo che ho presentato è stata la stessa quindi è simile teoricamente non dovrebbe essere così influente la rotazione inoltre sono state la stessa procedura però è stata applicata anche al test set ovviamente in maniera separata quindi è stato appunto l'addestramento è stato effettuato su immagini standard ruotate traslate eccetera e lo stesso test è stato eseguito con la stessa trasformazione ho capito grazie grazie a lei ecco io avrei una domanda più più che da esperto da da probabile interessato come tutti i docenti universitari insomma siamo tutti anziani ecco il per quanto riguarda eh c'è un punto che è definita l'accuratezza no e oggi si parla del fatto che il sistema è accurato nel riconoscere determinate patologie ma la popolazione di addestramento e poi la popolazione di test è una popolazione di eh come dire già candidati a eh quanto già identificati come malati di determinante patologie è una popolazione generica in cui vengono riconosciute le patologie ehm esiste la possibilità che altre patologie abbiano dei cross effetti sulla identificazione cioè ecco eh come il vostro studio si colloca rispetto alla distribuzione statistica del campione che voi andate analizzare ecco scusi la domanda niente allora ehm il dataset utilizzato è composto da pazienti tutti scompensati quindi eh diciamo una prima diagnosi è stata già fatta quello che è stato differenziato da parte dei professionisti è stata appunto l'entità dello scompenso quindi ecco non so se è sufficiente rispondere alla sua domanda ma la popolazione di provenienza è tutta facente parte del dei personaggi di persone affette da scompenso cardiaco ok grazie niente grazie a lei bene ci sono se non ci sono altre domande possiamo concludere qui la sessione allora eh i candidati eh possono restare qui nella sessione invece i relatori si si trasferiscono in camera di consiglio i candidati no i candidati devono restare qui dove sono va bene comissi comissi qui è qui qui Grazie.